...forte di tutto, Procida, va di balto da Zewski, su Trion, Pondo, Nersto, cosa Procida? ...secondi al termine di questo ventisettesimo turno e adesso deve stringere le maglie difensive, la formazione di coach Lele Molin, Procida si mette in proprio anche per la tripla... ...Fantinelli rimessa rischiosa per Procida che stavolta vuole andare ancora... ...stifesi che sto rollo to playmaker, prosidato, drive, ore a prospafia... ...va tutto allora Dominic Johnson che concretizza anche lui il recupero difensivo, poi decide di attaccare proprio Gabriele Procida, prova a scriverle le due in faccia, è sfortunato però... ...proteggere la palla e servire il compagno di squadra... ...il sorpasso sbagliato, arriva la schiacciata del sorpasso...